In merito alla regolamenta, questa considerazione vale la vita della regolamenta, sostanzialmente si tratta di una regolamenta della regolamenta comunale a una regolamenta che è subentrata ormai da tempo. E ragione, a volte mi pare che queste esigenze della regolamenta continueremo questo lavoro nel prossimo futuro con altri regolamenti anche di natura tributaria, chiaramente direttore quello del Consiglio comunale, sono diversi regolamenti a cui bisogna mettere a mano, stavolta abbiamo iniziato da questi che erano un po' più vecchi, diciamo. Il nostro regolamento, l'attuale regolamenta di contabilità risale nel 1996 con la diretta del numero 75 e prendeva come riferimento il detrito del Cisellativo 77 del 95. questo testo normativo con il grande rigore del testo 2000 è stato allogato, alcuni principi sono stati anche, diciamo così, sono pure notati rispetto al testo precedente. Io ho sintetizzato sostanzialmente i punti più stati, diciamo, del regolamento di contabilità e che sono i rapporti, vengono definiti rapporti del responsabile servizio finanziario e gli altri responsabili di servizio dipendono con l'assunzione della determinazione, quindi la disciplina di come poi le determinazioni non saranno. Il secondo voto, l'individuazione interna delle procedure in mente alla predisposizione e approvazione del bilancio di servizioni e del piano di servizio di gestione. Il precedente regolamento, se vi ricordo, prevedeva addirittura una volta che la disciplina di servizio di servizio è il parere, e sia in unità i dettamenti, da parte della minoranza. Quel meccanismo è sbagliato, è sostanzialmente la minoranza opporre un parere di servizio di servizio. E poi, una volta che è coperto di quello, vengono a disposizione dei consigli di servizio di servizio. Questo è un risulto che deve essere le cose più rilevante. Poi, il controllo di gestione. Prima, prima, il vento, l'evento, l'evento, l'evento. Il controllo di gestione è il primo che viene attribuito al proprio legge del servizio di servizio. Diciamo, ma è una corpola superata, non lo fa più nessuno, oltre tutto, oltre ad essere più costosa, sostanzialmente è quasi impossibile, ma perché i remisori non hanno il tempo materiale, ma è anche il controllo registro e per cui il regolamento lo attribuisce alla struttura interna, al servizio di servizio di servizio. E poi è anche regolamentata la nomina del collegio del nostro lavoro, che verrà comunque presentata, chiaramente la prossima volta, da un avviso pubblico e da un istitutore pubblico. Il consiglio comunale poi avrà libertà di scelte, però verranno, di quella rosa, di candidati che hanno fatto la domanda, per il quale, qui c'è già previamente detto, tanto che il positivo, diciamo, per la nostra. Sì, il consiglio comunale, che è fondamentale e indistensabile, che visto anche come sono datati i regolamenti con cui questo Consiglio Comunale è indispensabile che effettivamente si proceda ad un aggiornamento e apposso di questo, pensato come dicevi prima, mi auguro che prima postibile si proceda all'aggiornamento e all'aggiornamento delle tribute, così come pure all'aggiornamento dei funzionamenti del Consiglio Comunale e insomma, visto che ci si mette a fare bisogno di lavoro, noi diamo la nostra disponibilità tutto quello che si racconta, ci sono 100 punti, noi diamo la nostra disponibilità a collaborare e a lavorare affinché per 6 giorni tutti i regolamenti nella tribuna del Consiglio Comunale Allora, dicevo, rispetto al regolamento di contabilità, l'articolo 7 dell'istituzione del bilancio di previsione Io volevo dire, innanzitutto, se non fosse possibile inserire la disponibilità del bilancio di previsione oltre al fatto che ho visto che dopo il bilancio di previsione è previsto che il Consiglio Comunale l'aggiornamento delle tribune, l'aggiornamento delle tribune, l'articolo 7 dell'istituzione del bilancio di previsione e la possibilità che una parte del bilancio, una somma che varia probabilmente dal bilancio di previsione che possa essere messa nel capito del bilancio con la partecipazione dei cittadini cosa che avviene in altri comuni, premiando le idee e i progetti Sui tempi, se io devo mettere una piccola spiegazione La compa 14 del progetto 9 del Femmian insieme ai dati delegati sono depositati in presso il via generale l'articolo 7 dell'articolo 7 dell'articolo 4 per un periodo inferiore ai 10 giorni l'antice dell'entrata del Consiglio Comunale è convocato dalla popolazione dei conti scommetti trasmessi e che è il punto di formare il trono Poi la compa 5 si dice che gli ammendamenti e distanziamenti del progetto di bilancio Correrà la prima relazione, ci sono i problemi che gli interesse